Ciao a tutti ragazzi, ecco questo secondo video di approfondimento su Level 5 che è ritornata assolutamente sotto le luci della ribalta nell'ultimo periodo con il Nintendo Direct e poi appunto l'annuncio di questo live stream per condividere tutte le nuove informazioni sui titoli in sviluppo e sulla nuova visione della compagnia, quindi cavolo, bellissimo. Torniamo a noi, nel video scorso ho parlato della fondazione, della nascita di Level 5 se non l'avete visto è piccolino, vi lascio il link in descrizione e lo trovate anche alla fine di questo video se volete riprenderlo. Parliamo adesso del crollo di Level 5, l'anno critico, più critico di Level 5 si può, diciamo, indirizzare, si può far, diciamo, finire al 2013. Prima di arrivare a quest'anno però ci sono stati diversi problemi indietro perché appunto Level 5, come vi dicevo, fondata nel 98 ha avuto il suo più grande successo dopo circa appunto una decina d'anni in quel periodo di inizio anni 2000 e ha avuto così grande successo che alla fine poi è diventata indipendente ha deciso di sviluppare e pubblicare autonomamente e questo però ha portato la Software House a dover gestire tutti quelli che sono meccanismi di un'azienda complessa e quindi meccanismi sia economici che organizzativi che l'hanno un po', diciamo, spostata dai binari. ha intrapreso anche dei progetti, tanti progetti diversi molto lunghi e su molte strade diverse e questo l'ha portata a non essere sufficientemente attrezzata e lucida per poter gestire tanti rami diversi e la parte economica e organizzativa tutte allo stesso tempo. Questo perché infatti Level 5 si è espansa molto ha iniziato ad autopubblicare e questo ha portato anche a un giusto investimento dell'azienda in diversi settori quindi hanno sviluppato più brand allo stesso tempo e soprattutto hanno deciso di avere un approccio cross-mediale quindi di non sviluppare solo videogiochi e far uscire le loro serie solo in videogiochi ma di puntare anche su tutto quello che c'è a contorno quindi con appunto dei manga, degli anime dei prodotti comunque multimediali correlati alle serie per cui uscivano i giochi e questo è un punto focale per Level 5 perché ha investito tanto in questa cross-medialità dei suoi brand che però funziona bene solo in Giappone cioè nel senso in Occidente è una cosa che non ha preso benissimo come in Giappone e quindi non sono stati totalmente ripagati gli investimenti fatti in questo espandersi su altri settori e sviluppare le proprie proprietà su altri settori che non fossero solo quello del videogioco con il 2013 si è effettivamente l'anno del crollo Level 5 fa davvero fatica a organizzare tutti i suoi progetti comincia a puntare solo su Inazuma Eleven e Yokai Watch che sono un po' i brand più grandi che ha lasciando un po' da parte la serie del professor Layton che vede appunto l'ultimo capitolo nel 2013 l'ultimo capitolo ufficiale ed è importante perché lascia una serie con cui ha avuto una svolta nella sua carriera fa un po' di confusione e gestisce malissimo la localizzazione e la pubblicazione negli altri mercati dei suoi giochi infatti sappiamo benissimo come l'ultimo Yokai Watch non è arrivato, come la fine della serie di Go in Azuma Eleven Galaxy non è arrivato per un problema politico di cui abbiamo già parlato che non ha senso proprio quindi ha avuto davvero una pessima gestione della localizzazione, della pubblicazione al di fuori del mercato giapponese e questo l'ha portata sempre più ad allontanarsi allontanarsi dal mercato giapponese e questo è bene o male il motivo diciamo principale per cui è sparita dai radar negli ultimi anni e per cui si pensava dato che appunto non navigava in ottime acque dato anche lo sviluppo travagliatissimo di Nazuma Eleven Victory Road che come sappiamo ha avuto un sacco di airbranding era Ares perché doveva essere solo quel pezzo poi il gioco ha avuto problemi la serie è andata avanti ne è uscita anche un'altra e il gioco quindi si è dovuto adattare a quello che era già stato in realtà anche raccontato attraverso l'anime che l'ha superato il gioco è diventato Great Road ma è andato avanti anche quello è stato rivisto è diventato finalmente Victory Road e si spera che sarà un gran gioco ma ha avuto tanti tanti problemi e quindi la stessa azienda è un po' sparita dai radar con tutte le sue diciamo nuove proprietà e vecchie proprietà fino al grande ritorno che si spera possa rilanciarla fra le stelle delle software house e fargli sviluppare tanti nuovi capolavori e quindi il crollo è stato dovuto a una malgestione dei suoi brand delle sue pubblicazioni e della localizzazione al di fuori del mercato nipponico e questo è quello che l'ha portata quasi definitivamente a sparire dal panorama videoludico in un prossimo video di approfondimento parleremo della finalmente fortunata si spera rinascita di questa azienda quindi assolutamente non perdetevi il prossimo video con cui chiudiamo diciamo questa tridogia per raccontare la storia di Level 5 e io vi invito come sempre a lasciare un like a scrivere nei commenti cosa ne pensate se sapevate già tutto oppure no iscrivetevi ovviamente ovviamente al canale ci vediamo molto molto presto con altri video di approfondimento ciao ragazzi grazie